eccoci qui ci siete ci siete ci siete ci siete ok riattiviamo lo screen sharing eccoci qui ok allora prima di iniziare volevo farvi vedere semplicemente visto che poco fa Laura chiedeva il discorso delle note innanzitutto come ho spiegato la volta scorsa nella lezione tra le informazioni che ci vengono richieste da InDesign quando andiamo a creare un file in pratica abbiamo la possibilità di indicare comunque all'interno delle opzioni aggiuntive i margini praticamente l'abbondanza e l'area delle note questa è già comunque un'informazione utile nel momento in cui per esempio stiamo organizzando una presentazione oppure vogliamo mettere a margine di un documento in un'area che poi non verrà stampata delle informazioni aggiuntive in ogni caso avete comunque nella barra degli strumenti come accade negli altri software lo strumento di annotazione così che per esempio io non lo so questa parte di testo voglio aggiungere una nota qualunque posso andarci praticamente a cliccare a selezionare scrivere questo testo è bello ok può essere utile quando ovviamente diciamo condividete un file ci dovete collaborare ok d'accordo laura era questo che chiedevi prima intendevi questo per annotazioni laura mi sa che non è collegato vabbè comunque vale eventualmente insomma sì o per le correzioni diciamo che in realtà per le correzioni ecco io solitamente sono abituato a utilizzare acrobat quindi tutte le annotazioni solitamente le faccio quando dicevo un file di questo tipo in acrobat però è chiaro che se su un file ci lavoriamo più persone oppure se è un file che sto ancora elaborando sicuramente avere delle note di riferimento può essere utile averle direttamente nel file in design no no è giusto cioè io per mia abitudine lo faccio in acrobat però anche se devo sviluppare un file hai ragione in effetti può essere può tornare più utile utilizzare le note all'interno così che non le devo prima esportare è giustissima come come utilizzo sì in effetti comunque non lo specifico mai però forse dovrei ricordare che in fase di produzione ci sono anche le note all'interno del nostro documento allora ok chiudiamo questa finestrella dunque ritornando a noi allora stavamo praticamente parlando della questione dei paragrafi cioè abbiamo detto nel momento in cui io cominciò ad elaborare il mio testo posso sfruttare anche le impostazioni di paragrafo e come vedremo tra poco le impostazioni di paragrafo sono veramente tante e variegate e ci tornano estremamente utili nel momento in cui riusciamo a domarle tra virgolette al meglio e nel momento in cui per esempio decidiamo di ad operarci su questo strumento in modo da organizzare il nostro lavoro al meglio perché questo perché esattamente come nel caso degli stili di carattere ci possono essere delle impostazioni ricorrenti molto facilmente delle impostazioni ricorrenti che possono essere gestite una tantum o più di una volta con stili diversi da applicare alla bisogna nel punto della pagina nella quale ci troviamo e poco fa avevamo semplicemente dato un occhio abbiamo creato uno stile ve lo faccio rivedere per creare uno stile di paragrafo ci basta selezionare per esempio il paragrafo di riferimento il primo che stiamo andando a creare e cliccare al solito sul pulsantino crea nuovo stile all'interno ovviamente della finestra stili di paragrafo crea nuovo stile oppure col pulsantino laterale nuovo stile di paragrafo crea un nuovo stile ci clicco sopra due volte e seleziona e già selezionata la anteprima io non so se riuscite a vedere bene le singole voci di questo elenco si vedono bene nel vostro schermo forse sono un po piccoline più o meno ok vabbè comunque adesso io vi descrivo le funzionalità tanto le vedrete in anteprima sulla destra e poi al termine vi lascerò anche un link una delle guide ufficiali di adobe già che quando si parla di paragrafi il mio consiglio è quello di studiarvi bene ogni singola funzionalità e di leggere soprattutto la guida ufficiale perché sono veramente tante le opzioni e magari si tratta anche di opzioni che in qualche maniera prima non sapevamo che potessero tornarci tanto utili ok quindi dategli sempre un'occhiata così che effettivamente si abbia la possibilità di entrare in intimità tra virgolette con il pannello ok allora si può zoomare nella vostra applicazione no nel mio caso si aspetta vediamo se riesco a zoomare solo che mi ricordassi una volta come si fa con il magic mouse a fare lo zoom a potete zoomare ok no in realtà lo dovrei poter fare anch'io solo che non mi ricordo mai quante dita quanti tasti devo andare a utilizzare ok ah ok nel vostro pannello meglio ancora ok d'accordo si non me lo ricordo perché di solito non seguo mai i miei webinar quindi solo l'altro ho provato ma no perché non mi ricordo mai se sono due dita tre dita perché c'è anche il giochino del cacchio perché sul portatile è facile qui ci fosse una volta che mi ricordo qual è la combinazione di tasti va comunque se potete zoomare voi fa lo stesso così abbiamo diciamo insomma tutta la schermata nella registrazione allora vediamo un attimino questo pannello lo stile di diciamo l'approccio sugli stili è più o meno simile come nel caso dei caratteri cioè io vado a indicare per esempio primo paragrafo testo per esempio e posso indicare come per gli stili eventualmente l'ispirazione esattamente come capitava per le mastro a degli stili precedenti perché all'interno del nostro testo possiamo creare per esempio cinque stili diversi di paragrafo e creare alcuni stili che sono basati sui precedenti e aggiungono magari qualcosa in più o modificano magari qualche dettaglio ok quindi piuttosto che andare a creare 120 stili diversi di paragrafo potremmo lavorare come per le mastro creando come facevamo con le mastro che erano ispirate ad altre mastro precedentemente create degli stili di paragrafo ispirati a stili di paragrafo precedenti e come vedete addirittura abbiamo la possibilità di generare comunque un'associazione di tasti per l'applicazione rapida comunque queste sono poi opzioni che studiando il pannello imparerete diciamo a conoscere alla base ci sono comunque strumenti del tutto simili come dicevamo a quelle dei caratteri per esempio posso scegliere un carattere tipo ecco facciamo il monaco così particolarmente diverso posso decidere per esempio che ci sia diciamo una certa grandezza kerning e tracking quindi spaziatura all'oltanamento delle lettere e così via orizzonte possiamo decidere che siano sottolineati in obliquo e così via e così via diciamo che ci scegliamo un certo tipo di carattere di formattazione di carattere e volendo ci sono anche le varie opzioni che troviamo anche nel pannellino dei caratteri perché si possa comunque gestire tutto al meglio di nuovo io le impostazioni italiane queste impostazioni di linguaggio nel nostro caso sono interessanti perché perché quando andiamo poi a toccare la suddivisione per esempio del delle sillabe a fine colonna in design si adatta alle regole di italiano che ha al suo interno quindi a seconda della lingua chiaramente la sillabazione dei caratteri l'accapo e così via possono subire delle modifiche ecco perché vi consiglio sempre di specificare il tipo di linguaggio in essere. Tra le opzioni interessanti abbiamo per esempio quelle dedicate alla rientranza dei testi esattamente come magari eravamo abituati a fare una volta in Word per così dire noi possiamo decidere che il testo cominci a n pixel di distanza, n millimetri di distanza dal bordo o possiamo per esempio decidere che la prima linea possieda comunque un rientro diverso in modo da mettere in evidenza la prima riga del testo come capita in alcuni libri avrete fatto caso che per esempio in alcuni libri o riviste la prima riga di ogni paragrafo rientra di un certo valore noi adesso, ah cosa importante, ovviamente io adesso volutamente esagererò nelle impostazioni per farvi vedere poi quando andiamo ad applicarle che cosa succede però è chiaro che sono delle impostazioni da considerare con la giusta cura per cui facciamo bene attenzione a questo tipo di impostazioni però voglio esagerare per esempio specificando che ogni paragrafo si distanzia dal precedente di 15 pixel quindi gli stiamo dicendo in questo momento che ogni paragrafo scusatemi, che questo stile di paragrafo considera un tipo di carattere diverso una grandezza diversa, una rientranza dal margine sinistro diversa la prima linea che oltre al margine generale rientra di altri pixel che ha una spaziatura rispetto al paragrafo precedente questo parametro significa spaziatura rispetto al paragrafo precedente pari a 15 pixel mentre per esempio voglio che il paragrafo successivo sia di... si allontani di... facciamo un bel valore più alto di 30 pixel tenetele in mente questi valori perché poi quando li appliceremo su altri paragrafi vedrete le stesse spaziature generarsi nei successivi paragrafi applicati addirittura, non so quanti di voi magari abbiano mai utilizzato le tabulazioni all'interno di Word però chiaramente InDesign vi permette di gestire le tabulazioni cioè i salti, tra virgolette, quindi le spaziature ogni volta che si generano, ogni volta che pigiate il pulsante Tab all'interno della vostra tastiera a che servono le tabulazioni? servono semplicemente a creare un ordine di colonna specifico oltre che per le tabelle chiaramente però diciamo che qui in questo caso può essere, può tornare molto utile per fare quello che facevamo una volta in Word quando creavamo le tabulazioni per presentare delle lettere per creare comunque dei contenuti distanziati la faccio semplice tra le aree disponibili ci sono poi ovviamente tante impostazioni tante impostazioni diverse che vi permettono di avere un controllo all'interno del vostro paragrafo decisamente interessante controlli che ovviamente vanno anche oltre le tipiche necessità che fino a oggi magari abbiamo incontrato ma che per esempio possono tornare utili quando si vuole andare a impostare il nostro testo per soddisfare esigenze specifiche riguardo tutte queste singole opzioni non mi fermerò adesso in questo specifico caso come vi ho detto adesso ho poi finito di parlare vi passerò il link con la guida ufficiale e vi potrete leggere tutto nel dettaglio comodamente il punto però qual è? dobbiamo imparare comunque ad aver confidenza con questo pannello non tanto comunque ai fini di decorare il singolo paragrafo ma per impostare questi stili come vi dicevo prima in maniera strategica cioè imposto il primo stile così come dovrebbe essere sapendo che quello stile lo applicherò per esempio a tutti i paragrafi di inizio pagina lo faremo adesso noi con pagina 2 e pagina 3 dove siamo nelle stesse condizioni giusto per vedere all'opera il tutto in questo caso per esempio modifico ecco gli diciamo che gli diciamo per esempio che ecco fatto andiamo a modificare qualche opzione modifichiamo la linea solo rispetto al testo giochiamo un po' ecco magari giochiamo un pochettino su questo giustificazione adesso mi sfugge un attimino il termine in italiano la traduzione italiana di aiutatemi un attimo come diavolo si chiama in italiano qualcuno mi aiuta? morca miseria sillabazione sì che poi l'ho detto pure prima quando abbiamo del testo chiaramente noi dobbiamo avere la possibilità anche di decidere come eventualmente le singole sillabe del nostro testo vengano gestite e che significa? significa che siamo noi a decidere per esempio se creare o meno quei fastidiosi effetti delle lettere troncate delle parole troncate a metà a fine testo magari per qualcuno saranno delle cose inutili in realtà quando create del testo dovreste fare sempre attenzione a che non ci siano delle strane sillabazioni a fine riga o il classico fare attenzione che non ci siano delle congiunzioni a fine testo eccetera ora quando si crea comunque un libro è chiaro che poi ci sarà un copy che andrà a rivedere il testo lo rivedrà tante volte però se io so che sto lavorando ad una rivista che poi uscirà fuori devo anche sfruttare gli strumenti per agevolarmi agevolare il mio lavoro successivamente cioè sempre imposto questi parametri che gestiscono adesso vi farò vedere la sillabazione comunque già mi alleggerirò il carico lavorativo quindi darò come compito a InDesign di verificare il modo in cui il testo viene troncato a fine riga e nella fattispecie per esempio tutti questi parametri che in italiano sicuramente saranno maggiormente esplicativi mi permettono diciamo di elaborare in qualche maniera la suddivisione guardate qui la suddivisione delle lettere a fine riga per esempio in questo momento io sto diciamo indicando a InDesign il modo in cui c'è un modo per non fargli lasciare le vedove a fine testo sì infatti di questo proprio stiamo parlando dobbiamo comunque trovare la giusta combinazione di queste opzioni per fare in modo che eventualmente ecco guardate come cambia il testo semplicemente cambiando questo valore per fare in modo che non ci siano quelle vedove per così dire appunto termine tecnico per chi magari comunque non lavora con queste tipi di opzioni per fare in modo che il testo non si trovi ad essere eccessivamente troncato quando si lavora sembrano delle finezze ma vi rivedo se lavorate comunque con i testi vi troverete sicuramente a doverli gestire e tutte queste opzioni ovviamente ci offrono un controllo dettagliato sul nostro testo ripeto è un esempio banale per non scendere troppo nel dettaglio però voglio eliminare comunque delle impostazioni del testo e allora decido per esempio di reimpostare questi parametri così che il calcolo delle lettere da mandare a capo rico lo faccia in design e con le impostazioni giuste possiamo evitare facilmente salvo ovviamente casi opportuni poi da controllare possiamo evitare facilmente che ci siano degli a capo sballati tra virgolette ok giocate un attimino comunque con questi valori comunque modificandole a piacimento insomma divertitevi voi come volete per vedere l'effetto questo lo dico per chi non ha mai utilizzato non si è mai anzi preoccupato della questione della sillabazione le opzioni comunque dedicate alla sillabazione e al modo in cui il testo poi si va a riversare nella colonna sono queste due sillabazione e giustificazione in italiano justification giustificazione esce fuori che brutto termine a che serve quest'altro termine chiaramente sapete che tantissimi utilizzano per esempio il testo giustificato a me non piace ne abbiamo parlato già in passato perché sappiamo che giustificare un testo equivale a snaturarne gli equilibri però alle volte è necessario ce lo impongono quello che vi pare piace anche in questo caso possiamo però migliorare l'elemento di l'applicazione dello stile giustificato con le opzioni relative all'interno poi delle tante opzioni che avete a disposizione ne trovate comunque tantissime altre tra le quali quella di cui vi parlavo io non mi fermerò adesso a parlare degli stili grep ma vi darò appunto questo link che è estremamente esaustivo come vi dicevo posso anche generare i cosiddetti stili nidificati e posso eventualmente per esempio gestire anche la famosa capolettra che cos'è la capolettra guardatela qui ma sicuramente appena là ecco qui la capolettra solitamente che cos'è non è altro che la prima lettera che alle volte capita che abbia una grandezza smisurata che però viene gestita dal software e cioè queste cinque linee che vedete evidenziate nella mia opzione corrispondono in pratica alle linee occupate le linee di testo occupate dalla mia lettera cioè io decido che sia tanto grande quanto per esempio tre righe quattro righe cinque righe sei righe e posso decidere che la capolettra la capolettra giusto riguardi solo la prima lettera o magari le prime due le prime tre eccetera anche in questo caso giocandola comunque in una certa maniera possiamo gestirla in modo da controllarla simultaneamente su tutto il nostro testo e vi faccio notare da lì dicevo l'importanza di studiarvi poi bene il pannello cioè di metterlo proprio alla prova rispetto ai vostri testi per vedere con i vostri occhi gli effetti possiamo addirittura associare a questa prima lettera così grande uno degli stili che avevamo creato in precedenza avevamo creato poco fa lo stile di carattere titolo di pagina vi ho detto che comunque lo stile di paragrafo si ispira anche agli stili di carattere ed ecco che basta andare ad associare lo stile che avevamo creato in precedenza per i caratteri la cosa bella qual è? che man mano che voi andate a nidificare gli stili a associarli e a combinarli vi mettete in condizioni di facilitarvi tutto il lavoro esempio pratico se domani viene l'editor che mi dice guarda il tipo di carattere che abbiamo messo nei titoli di pagine nella capilettra fa schifo io posso andare a modificare non tutto il testo ma addirittura solo lo stile di carattere cosicché tutto ciò che va a ereditare gli stili di carattere precedentemente costruiti quindi anche questa è così grossa in automatico ne subiscano le modifiche estremamente comodo ok? per di più vi faccio notare che avete proprio il pannellino che in inglese si chiama così in italiano non lo pronuncio non oso pronunciarlo in italiano si chiama nuovo stile edificato questi stili in effetti di nuovo vanno a riprendere le impostazioni che avevamo visto precedentemente e che in realtà ripeto in italiano vi saranno più chiaro vi permettono in pratica di gestire queste informazioni controllando quante lettere caratteri o parole per esempio devono essere considerate nello stile che stiamo che abbiamo evidenziato ok? per esempio uno stile che possa riguardare n caratteri n parole n lettere n digitazioni inclusi quindi anche spazi e eventualmente elementi insomma potete veramente giocarvela come vi pare piace è chiaro non per tutti i lavori queste opzioni vengono toccate ma se vi trovate a gestire dei testi con un'impostazione ricorrente il mio consiglio comunque è di approfondirli di testarli e di metterli alla prova perché è lì che serve la guida perché la guida comunque passo passo vi può assistere nel momento in cui tra un mese per esempio vi troverete a sfruttare questo tipo di impostazione il mio compito in questo caso è farvi notare come attraverso il semplice stile di paragrafo avete veramente il controllo dettagliato di ogni singolo elemento utile poi lo vedremo quando andremo a riapplicare lo stile di paragrafo ok? adesso per esempio ok qui c'è lo stile di pagina io ho detto di associarlo ecco in questo caso guardate ho cliccato senza accorgermene va bene ho associato lo stesso stile di carattere quindi lo stesso stile che è il titolo di pagina che avevamo creato prima alla prima parola del mio paragrafo quindi vedete in effetti la prima parola che è questa frase questo testo qui viene praticamente automaticamente associato al titolo di pagina ma se io anziché una parola gli dico per esempio facciamo tre caratteri guardate uno si vede da voi uno due e tre aumento il numero di caratteri e gli dico cinque e via ok quindi insomma potete davvero ecco oppure se gli dico per esempio le prime cinque parole in automatico le prime cinque parole vengono associate a quello stile e ripeto potete anche generare per esempio ulteriori stili che chiaramente vadano a essere calcolati in modo tale che le prime cinque parole per esempio abbiano uno stile le successive ne abbiano un altro e poi magari gli andiamo a indicare per esempio un altro stile qui ho creato solo uno stile di carattere possiamo crearne magari un altro al volo se non mi sballa quelli di prima vabbè avendo più stili di carattere possiamo eventualmente decidere di impostare lo stesso stile per altre diciamo seguendo comunque altre impostazioni opzioni e vi faccio anche notare che avete i classici pulsantini ascensore perché magari posso decidere che uno stile venga applicato all'inizio e un altro in seguito e poi cambiare idea e invertire il tutto quindi giocateci abbondantemente tenendo a portata di mano la guida che adesso poi vi linkerò sugli stili grep è un altro argomento importante sono ben spiegati nella guida ad hobby comunque in sintesi vi servono praticamente per mettere in evidenza attraverso determinate condizionali elementi come i link di una pagina o nell'esempio della guida i numeri di telefono cioè facendo in modo che quando si presenta una certa sequenza di caratteri come per l'appunto il numero di telefono l'email il sito internet eccetera ci sia un'impostazione grafica che li metti in evidenza se io ad esempio qui dentro avessi scritto un indirizzo web probabilmente avrei cercato di formattarlo in modo tale che fosse messo in evidenza con il classico colore azzurro la frase sottolineata e così via come lo faccio in automatico tutto questo sfruttando gli stili grep oppure ecco voglio mettere un elenco puntato o numerato anche in questo caso comunque posso gestire eventualmente uno stile comunque che accompagni il paragrafo così che quando vado ad applicare il mio stile di paragrafo automaticamente salti fuori l'elenco puntato e numerato e come vedete avete sempre una serie di opzioni che esattamente come magari facevamo in precedenza su Word ci facilitano la vita non che su Word facciamo quello che facciamo su InDesign per carità però voglio dire ecco tutte quelle attività che solitamente siamo abituati a fare in Word facendo in InDesign passano per automatismi come quelli che stiamo vedendo questo adesso glielo caccio perché non ce ne frega niente non modifico vabbè modifico il colore del paragrafo così lo vedremo poi in fucsia e via dicendo poi fino ad arrivare comunque opzioni come quelle che abbiamo visto prima un attimo solo e lo so Silvia che è pura follia eppure ti posso garantire che comunque viene abbondantemente utilizzato con la mia collega Strella vi ho raccontato in un webinar che siamo andati in un mi sembra che fosse mailbox x etc dove c'era una specie di grafico che in pratica impaginava in Word copiava e incollava in InDesign in Illustrator e poi in pratica da lì mandava in stampa cioè una cosa comunque allucinante e l'abbiamo visto noi quindi purtroppo sono comunque cose che troviamo tutt'oggi e lo so ma guarda ce ne sono di persone che non hanno idea che fanno questo tipo di giochetti per non dire quello che ha appena scritto Roberto cioè non so quante volte i clienti mi mandino loghi impaginati in Word quindi purtroppo è così comunque tra le opzioni comunque a parte le opzioni open type e altre opzioni dedicate per esempio all'esportazione i pub e compagnia ci sarebbe un discorso a parte da fare però materialmente sulle impostazioni degli stili di paragrafi ci fermiamo un attimino qui clicco su ok ho creato il mio stile di paragrafo ora da questo momento in poi guardate io per esempio creo do un paio di colpi di invio così vi faccio vedere a occhio nudo la creazione di questi paragrafi e adesso guardate seleziono l'intero no facciamo tutto il testo no seleziono questi paragrafi sono esattamente tre paragrafi uno due questo che continua qui e il terzo qui quando andrò ad applicare il mio stile di paragrafo dovrebbe succedere che ciascun paragrafo dovrebbe iniziare ad assumere le caratteristiche del paragrafo che abbiamo creato insieme inclusa soprattutto ve lo faccio notare giusto per metterli in evidenza la spaziatura anzi riduciamo anche qui la spaziatura così si vede anche meglio ecco fatto clicco sullo stile di paragrafo e in automatico ciascun paragrafo come vedete ha assorbito in pratica le mie impostazioni ora solitamente per farla facile quando si va a creare un testo sfruttando gli stili di paragrafo e gli stili di paragrafo nidificati si arriva a dire per esempio ad n paragrafi dal punto in cui si clicca che ad n paragrafi debba essere associata una certa impostazione così facendo in un colpo solo io non ottengo questo tipo di effetti ma uno stile per il primo paragrafo al secondo invio per esempio otterrò degli altri stili come vi dicevo insomma avendone cura è uno strumento estremamente potente e utile per l'impaginazione d'accordo? quindi anche se comunque è stata una breve finestrella però spero che sia stato sufficientemente chiaro quantomeno comunque la potenza espressiva che ci permette questo tipo di strumento d'accordo? ok? chiari gli stili di paragrafo? ok allora adesso passiamo un attimino oltre volevo farvi vedere alcuni strumenti e poi anche altri ai quali daremo seguito domani e allora innanzitutto come vi dicevo dentro InDesign nel pannello degli strumenti oltre agli strumenti che abbiamo già visto ce ne sono tanti altri ma ci sono anche gli strumenti di disegno a che ci servono questi strumenti di disegno? poco fa credo Ciccio Batocchio ma Ciccio Fron Batocchio o qualcun altro chiedeva praticamente chi come si facesse a costruire del testo che magari segue un andamento contorto nel caso in cui per esempio si abbia la volontà di creare del testo a spirale ad onda eccetera sappiate che noi abbiamo innanzitutto gli strumenti di disegno vedete qui la matitina che abbiamo all'interno del pannello con questa matitina io posso ad esempio costruire la mia riga magari gli do anche una colorazione rossa poi come capita con gli strumenti questo lo posso ingrandire ok allora dicevo quindi come capita in illustrator lo strumento matita possiede due varianti che sono una la matitina smooth che ci permette in pratica di ammorbidire i vertici e l'altra diciamo la classica gomma per cancellare altri vertici e cioè seleziono la mia curva clicco sullo strumento smooth e guardate che succede non so se riuscite a vedere i vertici anzi io la cambio in giallo così ecco così si vede meglio in giallo la vedete la curva o non vedete niente che ho messo il giallo così da evidenziare i vertici ok guardate cosa succede con lo strumento smooth una cosa che in illustrator serve tantissimo e che in pochi conoscono quando passo sopra un vertice con lo strumento smooth questi vertici in pratica vengono smussati quindi resi più morbidi così da evidenziare da eliminare scusatemi eventualmente da eliminare delle fastidiose spicolature nella mia curva quindi vedete io clicco tengo premuto il trascino nel punto in cui mi interessa e in pratica sto semplificando rendendo più morbida ogni curva della mia linea dopodichè all'interno del pulsante testo clicco e tengo premuto e scopro che c'è un pulsantino che dice scrivi su un tracciato clicco sopra scrivi su un tracciato pigio nel punto in cui desidero inserire il testo facciamo per esempio qui e comincio ops ho cliccato fuori e comincio a scrivere ma che cacch scusatemi un attimo Houston ok dicevo clicco sulla curva e comincio a scrivere questo testo ovviamente sarà comunque sempre editabile con tutti gli strumenti di carattere ok e come vedete segue ovviamente la mia bella curva non solo la stessa curva eventualmente può essere modificata con il classico con gli strumenti di editing in modo tale da trovare ovviamente una curva che ci soddisfi può essere magari comunque non lo so abbiamo volontà di divertirci con delle spirali quello che vi dicevo prima ma ricordatevi che avete anche gli strumenti per esempio per quando lavorate diciamo con InDesign gli stessi strumenti di Illustrator per andare a modificare come avevamo visto prima per esempio la nostra curva aggiungendo vertici togliendoli modificandoli e così via curve di Bezier o meno e così ok quindi diciamo che in effetti tutto sommato abbiamo gli stessi strumenti di Illustrator con la differenza che qui ci possiamo fare un utilizzo creativo abbastanza interessante adesso vabbè sto esagerando volutamente ma giusto per farvi notare come sia divertente andare a lavorarci siccome ho selezionato la curva ovviamente la curva ha una sua traccia come accade in Illustrator ma io magari non voglio questa curva nera in modo tale che il mio testo sia più figo beh seleziono comunque la traccia clicco nel menu dei campioni sul colore neutro in essenza di colore svuoto praticamente la mia traccia ed ecco che alla fine avrò questo mio bel testo che sembrerà disposto admin su una ideale linea sui tracciati semicircolari o circolari ho sempre avuto difficoltà perché a volte va in senso orario altre in anti-orario e no in realtà diciamo che c'è anche la possibilità di impostare all'interno di tracciati circolari è vero hai ragione la tolgo sui tracciati circolari in effetti esiste comunque la possibilità di eventualmente orientare il modo in cui il testo si muove è vero che ogni tanto capita che magari si voglia il testo con un andamento diverso esiste un'opzione per riorientare il testo in questo momento sinceramente non me la ricordo però considera che può anche venirti eventualmente utile la gestione della forma prima di applicarci comunque il testo alle volte comunque anche la disposizione su forme molto particolari ho citato la spirale più volte perché l'ho vista applicata in tante riviste alle volte comunque richiedono un attimo di ragionamento prima anche solo per evitare che per esempio i caratteri si vadano a impastare eccessivamente però dentro in design comunque avete la possibilità di giocare abbondantemente quasi come in illustrator con questi vostri strumenti vi dicevo avete anche le forme le ho fatte vedere adesso forme poligonali rettangoli sfere poi come ho detto comunque avete gli strumenti classici per modificare il vostro tracciato quindi magari potete comunque costruirvi la vostra forma e poi perché no giocarci a vostro piacimento d'accordo? quindi questo per quanto riguarda l'utilizzo di testi di questo genere volevo anche farvi vedere altri strumenti legati alla creazione degli oggetti per esempio mi costruisco una mia bella ellissi e lo vado per esempio a riempire di giallo facciamo giallo così si vede meglio e a un certo punto ecco qui a un certo punto per esempio decido di andare ad applicare degli stili a questo tipo di oggetto aspettate adesso vi leggo un attimo volevo completare un attimino il pensiero poi leggo le domande che avete scritto dicevo creo questi due singoli oggetti e magari voglio mettere alla prova gli effetti speciali di illustrator effetti speciali cioè gli effetti simili a quelli che troviamo su photoshop e di illustrator per esempio ho selezionato questo oggetto e scopro che nel pannello effetti che trovate nel menu finestra ho tutti quei tutti quegli effetti di livello i metodi di diffusione di livello che trovavamo originariamente in photoshop per esempio il comando moltiplica scherma sostituisce sovrapponi e così via molto interessanti nel momento in cui magari abbiamo anche delle immagini o degli altri oggetti da gestire nel mio caso addirittura posso voler modificare l'opacità dell'oggetto ok quindi anche poter lavorare in questo senso ci potrebbe tornare utile per andare poi a in qualche maniera a gestire tra virgolette degli effetti un po' più avanzati fino ad arrivare seguitemi un attimo poi vi rispondo a questo pulsantino FX che trovate anche in alto che nasconde una serie di funzionalità per esempio quelle di photoshop ombra esterna ombra interna bagliore facciamogli per esempio un'ombra esterna esattamente come accade in photoshop vado per esempio ad applicare una ombreggiatura esterna e ecco smusso l'effetto rilievo che io odio clicco su ok e non succede un cacchio perché che cosa ho fatto facciamolo sull'oggetto pieno ah si che imbecille giustamente l'oggetto è sottoposto a un effetto ok ah non ho applicato a niente l'effetto vabbè lo rifaccio ombre esterno si sto anche mezzo squagliato per essere sincero sto cacchio di raffreddore ha rotto veramente le scatole mettiamogli facciamo questo vabbè smusso l'effetto rilievo facciamolo come per capire andiamo a cliccare su ok ed ecco che praticamente lo stile è stato applicato all'oggetto esattamente come accade in photoshop riconoscerete il fantomatico pulsantino che di solito si utilizza ok no in realtà prima penso di non averlo applicato perché non è che dagli lo stile di sovrapposizione annulla o elimina l'effetto non so cosa ho fatto evidentemente stavo applicando lo stile senza aver cliccato su niente comunque ho applicato questo stile diciamo grafico all'oggetto la bontà di utilizzo di InDesign ci permette addirittura di memorizzare anche questo stile legato all'oggetto sempre nel menu finestra stili caratteri paragrafo oggetti eccetera abbiamo anche lo stile degli oggetti quindi io posso per esempio andare a crearmi un nuovo stile chiamarlo stile palla gialla modificare eventualmente queste opzioni perché come abbiamo visto per gli stili di carattere di paragrafo andando praticamente a toccare le singole opzioni posso giocare in tanti modi diversi quindi mi ci posso davvero divertire fra l'altro vabbè qui vabbè lo faccio vedere subito avete anche le opzioni magari adesso lo vediamo un attimino a parte possiamo anche decidere sì lo vediamo a parte possiamo decidere come il testo si risponga intorno all'oggetto e possiamo inglobarlo tra le opzioni degli stili dell'oggetto adesso lo vedremo meglio spiegherò meglio cos'è questa opzione importante comunque scelgo tutte le mie impostazioni clicco su ok dopodiché ho salvato il mio stile palla gialla clicco sul secondo oggetto clicco sull'effetto ed ecco che ho clonato tutte le opzioni del primo stile sul secondo anche questo è molto interessante perché in effetti vi permette di armonizzare magari comunque un certo stile l'ombra la direzione dell'ombra piuttosto che le applicazioni di sovrapposizione insomma c'è da giocarci un bel po' una cosa che mi piace molto e adesso andiamo a fare con il testo a pagina 2 riguarda la capacità che InDesign ci mette la possibilità che InDesign ci mette a disposizione di inserire un oggetto in mezzo al testo decidendo poi come il testo e come l'oggetto grafico influencerà il mio testo allora questo oggetto questa palla gialla sta in mezzo alle palle cioè no scusate in mezzo al testo perdonate il francesismo qui grassa e risata allora questo oggetto in pratica deve influenzare il testo cioè se io sto pubblicando un articolo e lì dentro c'è una foto un oggetto adesso il nostro oggetto è circolare però supponiamo per esempio di rielaborarlo un attimo lo modifico un po' così lo vedete anche meglio ci vado ad aggiungere per esempio un vertice e questo vertice vado a trasformarlo in maniera brutale ok ho semplicemente modificato il mio oggetto vettoriale lo butto in mezzo al testo e io voglio che il testo segua in qualche maniera la presenza di questo oggetto questa specie di banana impazzita no più che un pacman sembra un pacman sfatto ecco più o meno come mi sento io in questo momento che dopo la pausa il tema ha fatto male allora dicevo voglio che il testo vada a essere applicato a questo oggetto seguendone eventualmente la struttura torno sul menu finestra e vado all'interno del pannello contorna testo in italiano credo che sia contorna testo correggetemi se sbaglio ditemi un attimino se è vero si chiama contorna testo in italiano ok questo pulsante che cosa fa guardate un po' perché è importante questa cosa vi permette praticamente all'inizio semplicemente è inattivo infatti come vedete c'è scritto nessun contorno testo pigiando gli altri pulsanti inizia a scatenare l'interazione tra la figura e il testo il primo dei pulsanti crea letteralmente un box intorno al perimetro della figura perimetro che poi può essere rispetto a tutti e quattro i lati o solo rispetto ad alcuni vi ricordo sempre il pulsantino di concatenazione questo perimetro della figura può essere eventualmente aumentato simultaneamente in tutti i lati è un modo rapido per esempio per fare in modo che ci sia una figura dentro al testo con il testo che comunque non rasenta il perimetro della foto diciamo che stiamo creando una sorta di spessorino da associare al mio oggetto se lo spessorino non mi piace posso decidere magari di utilizzare un'altra opzione che in pratica si riferirà invece alla sua area curva per così dire cioè vi faccio notare non so se la vedete c'è una sorta di piccolo perimetro intorno praticamente alla figura e il testo piano piano come vedete comincia a disporsi intorno a questo piccolo a questo a questo piccolo perimetro perimetro che chiaramente io a un certo punto decido di aumentare ecco qui in modo tale che il testo segua lo faccio vedere cliccando fuori segua un po' la curva dell'oggetto è molto comodo perché questa cosa mi permette di giocarmela abbastanza bene fra l'altro anticipo prima di farvi vedere le altre opzioni una domanda che vi verrà tra poco in testa se per esempio ho un png scontornato e lo butto all'interno un png scusatemi un tif all'interno un tif senza contorno un file in psd quello che vi pare scontornato comunque come faccio ad applicargli un effetto di questo genere perché vi sarà capitato di vedere le classiche figure umane scontornate buttate nel testo e il testo che segue il profilo umano essendo una foto uno dice come diavolo faccio in realtà di solito in quel caso si crea praticamente una maschera di scontorno che si applica sopra alla foto e poi gli si dà questo effetto alla maschera di scontorno che chiaramente sarà alla maschera di scontorno come mi sto esprimendo non lo so questa terra comunque alla maschera intorno alla figura questa maschera intorno alla figura farà un po' da guida rispetto al testo cioè la foto è una foto rimessa lì ha il suo sfondo e ciao semplicemente gli applico sopra una mascherina con lo stesso diciamo percorso che dovrebbe fare che dovrebbe eseguire l'eventuale maschera di questa immagine la posso manipolare come voglio anche perché come ci ricorda Albe in realtà questo oggetto comunque rimane un oggetto vettoriale manipolabile e addirittura se ne ho voglia posso giocare diciamo combinando queste maschere per ottenermi effetti particolari l'appunto di Albe però si riferiva probabilmente ad un'altra cosa infatti ti ho letto nel pensiero appena ho cliccato mi ero dimenticato di aggiungere questo piccolo particolare ma stavo finendo qui per questo non l'avevo ancora detto vedete non so se lo notate e ingrandisco un poco così si vede ancora meglio allora riuscite a vedere i piccoli vertici del perimetro della di questa safe area dell'immagine si vedono questi vertici piccolini ok e quello che voleva dire Albe è che in pratica non solo io ho l'oggetto ancora modificabile ma addirittura il suo perimetro è a sua volta modificabile senza che l'immagine ne venga toccata a che ci serve il design riconosce i contorni delle immagini scontornate o sbaglio e si però il discorso è che l'altra volta noi parlavamo allora materialmente se effettivamente io utilizzo in design in una certa maniera sicuramente tutti gli automatismi del mondo inclusa il riconoscimento delle immagini scontornate lo potrò mettere a mio vantaggio e su questo non ci piove se ci organizziamo il lavoro prima in realtà io suggerisco semplicemente di utilizzare il secondo tra virgolette fenomeno per un motivo semplice quello che stiamo vedendo adesso perché in design ci mette a disposizione la possibilità di modificare questo perimetro perché può capitare che io per esempio questa parolina qui non mi vada che venga messa a capo perché magari vi tronca questa lettera e allora io materialmente se ho la maschera indipendente posso manipolarla e giocarci di conseguenza in modo tale che la parola a fine riga non venga più tagliata è una scelta per carità io faccio così non è che vi sto dicendo che sia il metodo giusto però siccome mi sono trovato tante volte a dover manipolare questi contorni per questi motivi che vi dicevo alla fine io preferisco sempre dotarmi della maschera aggiuntiva la carico sopra e me la creo io alla bisogna io di solito cosa faccio una volta creata la mia immagine con lo strumento pennina mi creo io la mia maschera sul soggetto e la vado praticamente ad aggiungere direttamente sul soggetto che ho scelto il tracciato che crea è lo stesso in che senso dice il tracciato questo che sto manipolando nella domanda di Antonio aspetta mi sono pensato la domanda di Antonio Antonio in design riconoscere l'immagine scontornata o sbaglio ah ok ok i tracciati in automatico ok si no io in realtà mi stavo ok tu stavi rispondendo Antonio ok no io in realtà volevo semplicemente motivare se qua la maledetto magic mouse volevo in realtà motivare il perché io utilizzi l'altro metodo che chiaramente è solo una proposta poi fate vobbis insomma ciascuno poi ovviamente diciamo troverà magari il suo la sua via per sviluppare tutte le cose che stiamo vedendo dicevo a me viene comodo comunque crearmi la mia maschera utilizzando per esempio la pennina intorno al soggetto perché di solito comincio un attimino poi a interagire direttamente con il testo che vedo cercando poi di modificare quei punti in cui mi serve che per esempio la parola non venga tagliata ma è solo un esempio comunque tra i tanti disponibili quindi ripeto non è assolutamente il metodo è un metodo ok eravamo ancora fermi al secondo pulsantino sì certo che è possibile scrivere dentro una forma a parte il fatto che ti ricordo che poco fa avevamo anche visto poco fa cioè la volta scorsa avevamo visto che all'interno dei box di contenuto dove ci buttiamo dentro del testo sono già guarda caso presenti anche le le forme comunque basiche quindi tu potessi già partire a crearti praticamente il tuo il tuo box ok fatemi un attimino finire questa cosa del contorno testo così altrimenti non esciamo più allora dicevo cliccando sul pulsantino in alto ci siamo fermati sul terzo pulsante però abbiamo anche altre due opzioni ripicciolisco che sono molto interessanti a loro volta perché in pratica cosa fanno bloccano in pratica lo scorrimento del testo all'interno del delle mie colonne e come vedete creano in pratica una specie di salto e anche questa è una funzionalità che trovate molto spesso nei giornali e vi faccio notare che la figura viene riconosciuta da InDesign in associazione alla colonna quindi se la muovo sulla prima colonna blocca solo la prima se la muovo sulla seconda blocca solo la seconda se tocca tutte e due chiaramente blocca tutte e due oppure arriva addirittura a interrompere la colonna con l'altro pulsantino lo facciamo qui pigio sull'altro pulsantino e come vedete in pratica blocca da quel punto in poi lo scorrimento del testo fino a fine colonna il testo poi riprende tranquillamente nella colonna successiva ma da quel punto in poi viene ad essere bloccato di solito diciamo che le combinazioni che noi andiamo a proporre di queste funzionalità poi variano in maniera anche abbastanza creativa perché c'è quello che comunque magari combina più maschere come vi dicevo per creare degli effetti particolari o per bloccare il testo impaginato in una certa sezione però queste sono cose che poi una volta che cominciate a utilizzarle secondo me vengono spontaneamente da sé ok quindi valutate ecco come vi dicevo prima guida alla mano e soprattutto strumento alla mano fate tanta pratica e poi lì magari comunque inizierete a a scoprire qualche cosina di più ok quindi chiaro comunque lo strumento di contorno col testo ok d'accordo domande qualcosa allora ci è rimasto un quarto ah vabbè sì stavo scusate mi avevo dimenticato volevo far vedere a Valentina il discorso del testo nella figura vabbè ho cliccato con la T dentro la figura ma mi addio che te ne sei accorta vabbè lo rifaccio vedere aspetta che stavo pensando a che cosa dirvi adesso visto che abbiamo solo un quarto d'ora con lo strumento testo Valentina ti dicevo prima a parte il fatto che puoi creare delle forme già e mannaggia il magic mouse puoi creare delle forme già definite per esempio il box di contenuto quello con la X ce l'hai già anche tondo poligonale eccetera eccetera se poi la figura è una figura vettoriale irregolare come questa cambi la T non scegli chiaramente il testo sul tracciato ma scegli la T normale del testo ci clicchi dentro e automaticamente poi vai a gestirti il tutto ok Valentina vabbè vabbè diciamo il testo sulla forma è abbastanza semplice da capire ci clicco dentro e via ok le forme si possono convertire in box di testo si giusto anche questo che ricorda Albe volendo qual è il pulsante questo text frame option non mi ricordo come si converte comincia ad essere leggermente fuori ah si ok vabbè in realtà è già diventato testo perché ci ho cliccato dentro si giusta questa cosa scusatemi se sto un attimino scendendo di volume ma comincio a non sentirmi granché bene dicevo avendo cliccato con la T di testo chiaramente l'oggetto viene riconosciuto da illustrator come box di testo però mantiene comunque tutte le sue caratteristiche di elemento vettoriale come vedete io volendo anche se dentro magari sono andato a scriverci posso andare comunque a modificarlo si vede ok posso anche andare a modificarlo mentre ancora c'è del testo dentro quindi è per quello che dicevo effettivamente è divertente anche giocarci solo che il modo migliore per rendersi conto delle potenzialità è poi quello di giocarvici voi per rendervi conto di tutte le differenze per esempio avete notato adesso che modificando la figura avevamo detto poco fa che il contorno era indipendente e infatti è rimasto indipendente cioè posso andare tranquillamente a toccarlo modificandolo comunque per i fatti suoi e diventa e diventa comunque interessante nel momento in cui per esempio stiamo creando del testo in maniera molto creativa pensate anche semplicemente ad alcune magari elaborazioni di testo che vengono inglobate in forme alle quali poi si aggiungono degli effetti speciali che vengono magari create in illustrator e che poi si portano dietro queste impaginazioni strane dentro in design sfruttando l'esistenza di queste maschere semplici un tempo addietro ne feci io un'elaborazione simile con del testo che veniva associato ad una maschera di illustrator il testo veniva completamente deformato e seguiva l'intero ripieno dell'oggetto che avevo generato poi l'ho importato in illustrator ho importato a parte il tracciato più esterno di quella figura così da avere già un perimetro definito e manipolabile e giocando con quel perimetro definito a parte e con questo effetto di questo contorno che comunque a sua volta ottiene una modifica aggiuntiva in pratica ero riuscito a fare in modo che il testo seguiva la forma decidendo quello che io avevo deciso cioè dandogli comunque una direzione un orientamento una morbidezza particolare se trovo poi l'illustrazione la riposto online anche perché era di un mio cliente quindi non credo di averla nel portfolio comunque eventualmente se posso la riposto comunque è giusto per dimostrarvi insomma quanto sia divertente volendo eventualmente creare un testo anche per un semplice locandina giocare con questi strumenti dentro l'illustrator ci sono alcune opzioni di questo tipo le abbiamo viste le maschere abbiamo visto comunque il testo che segue il tracciato eccetera però dove ci sono dei testi più ampi utilizzare questo strumento anziché magari l'illustrator potrebbe tornarci utile e comunque quando facciamo le classiche i pieghevoli le locandine eccetera eccetera magari giocare anche col discorso della sagoma e della maschera manipolabile a parte potrebbe tornare eventualmente utile e volevo farvi vedere un'altra cosetta nell'ultimo quarto d'ora spero che abbiate poi eventualmente 5-10 minuti in più per restare se non mi sentite più mandatemi a chiamare qualcuno super mezzorro e i calabini della polizia quello che volete allora nella giornata di domani sera innanzitutto vedremo lo sviluppo come vi dicevo di una specie di mini rivista e vedremo anche l'integrazione per esempio dei bottoni dei link e altro volevo però farvi vedere stasera le animazioni di pagina che sono molto importanti laddove per esempio vogliamo preparare una presentazione come faccio io spesso in design da portare al cliente per caso ieri hai anche spiegato come numerare le pagine o altre cose per l'impaginazione no in realtà non l'ho spiegato lo volevo fare domani comunque eventualmente vabbè ti do questo input poi domani lo sviluppiamo all'interno in pratica del pulsante dell'area pagina avete il pulsantino in alto a destra e avete anche la voce numerazione e opzioni di sezione questa opzione che si trova qui nel pulsantino in alto quindi ve la faccio rivedere pulsante numerazione e opzioni di sezione aspetta vediamo se ve la fa vedere illustrator dai giusto dai fai vedere che sono qua ah eccola qui ok numerazione sezione e opzioni di sezione in pratica è quell'area dove vi dicevo la volta scorsa possiamo iniziare comunque a permetterci il cambio della numerazione delle pagine e vi faccio notare che in effetti già guardando le opzioni si intuisce come possono essere ciutti questi strumenti in un libro trovate spesso per esempio i capitoli 1 2 3 le appendici numerate in maniera diversa ed è proprio da qui che si va eventualmente a costruire la numerazione per esempio posso decidere di far partire la numerazione con un prefisso diverso che può essere cap e anziché 1, 2, 3 anzi no facciamo anzi più che cap appendix e nella numerazione includere l'appendice a questo punto clicco su ok e in pratica da lì in poi come vedete mi cambia il modo in cui InDesign gestisce la numerazione sono proprio cambiate è proprio cambiato del tutto il modo in cui le pagine vengono rapportate poi chiaramente posso stabilire intervalli posso stabilire nuclei comunque di gruppi comunque di pagine per gestire questo tipo di opzione e quando ci torna utile ve lo faccio vedere rapidamente ma faceva parte dei contenuti di domani se io per esempio nella mia rivista vado a inserire una numerazione per esempio creando un box di testo qui in alto e scrivendo nome rivista pagina per esempio odio il magic mouse ok quindi numero rivista pagina per esempio poi vado all'interno del pulsante testo e vado per esempio a specificare no ma guarda da morire vado nel pulsante in alto testo specifico per esempio inserisci carattere speciale e all'interno praticamente delle opzioni ovviamente comunque trovate tutti gli strumenti del caso tutti i glifidi che potete immaginare i simboli copyright tutto quello che vi può diciamo sembrare utile e tra i marcatori avete la possibilità di indicare per esempio se vi trovate nella per esempio sezione x e poi eventualmente su anche se io qui non ho impostato una bella mazza però sulla pagina nella quale vi trovate come vedete questo tipo di effetto riportato nella pagina successiva cambia in funzione della pagina nella quale ci troviamo ovviamente le sezioni non sono uscite semplicemente perché non le ho neanche impostate e ho cliccato semplicemente dentro Francesca con lo strumento t sono andato a cliccarci dentro dicevo l'inserimento del numero di pagina automatico come vedete in pratica va automaticamente a leggere la pagina all'interno della quale ci troviamo ok sono andato semplicemente a crearmi il mio box magari ho scritto il nome della rivista cose come la data di uscita l'anno insomma quelle informazioni che trovate a sfondo pagina magari ci ho buttato dentro pure in questo gruppo di oggetti che ne sono un rettangolo un quadrato un elemento grafico quello che vi pare una volta che ho impostato poi tutte le mie informazioni di sezione di pagina la numerazione il numero per esempio il modo in cui la pagina si va a presentare vado su testo ovviamente clicco all'interno di questo box vado su type testo inserisci carattere speciale marcatore e vado a scegliere per esempio il marcatore di sezione se c'è prossima pagina pagina precedente o il classico pagina attuale che in questo caso ovviamente assume il nome della pagina che abbiamo poco fa modificato per far vedere a Francesco o Francesca adesso non mi ricordo chi l'aveva chiesto come si va a modificare tutto questo domani lo vedremo all'opera all'interno della rivista perché in effetti le prime due pagine avranno una operazione le altre due pagine con relativa sezione ne avranno un'altra d'accordo? sì volendo di solito in effetti si vanno a mettere nelle mastro diciamo che i giochi se ci sono per esempio soprattutto dei giochi grafici chiaramente li vado a mettere nelle mastro però può capitare che magari giocando con il fatto che col tasto destro del mouse tu possa copiare e incollare in un punto specifico se gli fai ctrl c tasto destro del mouse posizionare in una certa pagina se per esempio hai solo 6 pagine come capiterà domani magari non lo metterai nelle mastro però giocando con il pulsante incolla in posizione quindi mantenendo lo stesso punto in cui l'hai incollato la prima volta lui come funzione si va a leggere il nome della pagina e tu avrai la numerazione della rivista nel punto che preferivi ok allora volevo farvi vedere solo rapidamente la questione delle animazioni allora noi in questo caso abbiamo queste 4-5 pagine innanzitutto cambiamo in alto le impostazioni di layout del nostro strumento andando a indicare esattamente lo strumento per esempio di interazione per l'IBDF mi sembra che li faccia vedere già qui sposto un po' la vostra finestra se no non vedete niente ancora un po' ok così dovreste vedere tutto bene allora in pratica vi faccio notare che in alto avete praticamente il pulsantino transizione di pagina ok questa transizione di pagina in pratica ci permette eventualmente di decidere come gestire il passaggio tra le varie pagine a che ci serve questa cosa quando noi facciamo una presentazione al cliente molto spesso la presentazione la creiamo in InDesign vi sembrerà strano però vi da l'idea di quanto io considero InDesign fondamentale all'interno della mia giornata lavorativa ovviamente laddove è necessario nel caso delle presentazioni perché scelgo questo tipo di strumento perché oltre a sì perché oltre a gestire in pratica gli elementi grafici tutti gli oggetti che ci pare e piace ci offre la possibilità di integrare quelle tipiche animazioni che prima vedevamo dentro PowerPoint le interazioni in InDesign anzi le animazioni in InDesign possono essere associate ai singoli oggetti nonché alle pagine vere e proprie quindi gestendo per esempio il modo in cui una pagina lascia scorrere se stessa per dare spazio all'altra clicco per esempio nella pagina 1 scelgo un tipo di transizione InDesign mi dà l'anteprima e queste sono le classiche transizioni che avevamo anche all'interno di PowerPoint poi molto utile a parte che posso decidere alcune opzioni per ciascuna animazione ma questo lo sappiamo posso decidere anche la velocità e così via pigiando sul pulsantino in basso a destra in automatico compare a fianco di tutte le pagine di InDesign il pulsantino praticamente con l'effetto animato che avevamo scelto in modo tale che ovviamente l'intera animazione abbia uno stile coordinato questo perché a differenza di quello che pensano in tanti creare animazioni in PowerPoint o in PDF che sia con 100 effetti diversi rincoglionisce solo gli spettatori in realtà è più professionale creare una transizione di pagine uguale per tutte le pagine ok d'accordo PDF Silvia ok poi abbiamo anche poi abbiamo anche la possibilità eventualmente di gestire anche gli elementi multimediali li vedremo domani vi faccio vedere al volo le animazioni andiamo sul menu finestra interazioni animazioni le animazioni ci tornano utili con gli oggetti andiamo a pescarci per esempio quella cosetta di prima ah ne avevamo anche già i due posizionati non me ne ero manca accorto ok allora in pratica io posso selezionare l'oggetto non vedo la costante prima ok un attimo che tolgo le colonne così vediamo pure meglio ok perfetto allora dicevo posso selezionare un oggetto e in pratica posso eventualmente assegnargli sicuramente un nome lo vedremo perché è importante domani perché dentro in design vi anticipo è possibile comunque collegare azioni ed effetti facendo riferimento al nome degli oggetti quindi diventa importante che non ci siano due oggetti che si chiamano ovale altrimenti poi magari associo un'operazione a ovale e sono due gli oggetti quale attivo quindi magari chiamerò per esempio ovale 1 e scelgo per questo oggetto il classico vediamo dove sta il rimbalzo eccolo qua bounce bounce right che in pratica funziona come vedete nell'anteprima vabbè da voi forse nell'anteprima si vede un po' poco morbido però comunque diciamo è un oggetto che segue una certa logica appena io scelgo questa animazione guardate che cosa succede al mio oggetto in pratica ho due riferimenti uno legato alla direzione e l'altro al rimbalzo e in più all'interno del pannello poi domani lo vedremo un po' meglio posso decidere che l'animazione parta al caricamento della pagina al click nella pagina o al click sull'oggetto servono semplicemente per decorare un po' quella che è la nostra per esempio presentazione ok o rollover cioè il passaggio del mouse posso decidere eventualmente la durata eventualmente posso valutarne effetti in loop o altre altre necessità vi faccio notare che ci sono dei pulsantini poi domani vedremo a che cosa servono questo solo per stimolarvi a curiosare nel pannello per questo vi do tanti input e posso ovviamente decidere eventualmente se la velocità sia strutturata in una maniera piuttosto che in un'altra insomma divertitevi come vi pare piace abbiamo tante opzioni diverse e possiamo eventualmente combinarli a nostro piacimento fra l'altro all'interno di InDesign ripeto poi magari domani lo vedremo meglio potete anche decidere eventualmente come organizzare la presenza degli elementi nella pagina avete presente in powerpoint si esatto gennavo ma da un pezzo allora avete presente che in powerpoint voi decidevate come entravano gli oggetti nella pagina palla 1 palla 2 palla 3 eccetera la stessa cosa la potete fare all'interno di InDesign vedete qua io ho cliccato sul pulsantino del timing e a me risulta che il primo oggetto in pratica a partire è l'ovale 1 se io poi associo un'altra animazione a questo oggetto e lo chiamo ovale 2 gli do delle impostazioni vabbè come prima eccetera eccetera rotazione insomma quello che vi pare secondo il tipo di animazione che avete scelto mi ritroverò praticamente qui ad avere il mio ovale 2 eccolo qua e posso decidere che l'ovale 1 parta subito al caricamento della pagina come vi avevamo detto l'ovale 2 per esempio con un ritardo di 3 secondi chiaramente sono i classici conteggi che facevo all'interno anche di powerpoint cioè dentro powerpoint in effetti noi cosa facevamo cercavamo comunque di decidere come gli oggetti dovevano presentarsi e dopo quanto tempo la logica è esattamente la stessa l'unica particolarità se volete giocare con questo strumento sta nel fatto che quando lo andate a esportare vi anticipo questa cosa poi chiudiamo la lezione chiaramente dando spazio alle vostre domande quando andate ad esportare in pratica il vostro pdf dovete semplicemente scegliere al limite che tipo di dovete semplicemente andare poi a scegliere che tipo di pdf esportare nel nostro caso per esempio dovremmo scegliere pdf interattivo avete l'opzione pdf stampa se scegliete pdf interattivo produrrete un pdf che realmente vi darà la possibilità di vedere all'opera questi oggetti ok quindi vabbè domani poi lo vedremo nel dettaglio perché ogni fase di esportazione avrà il suo formato però in linea di massima la logica con la quale abbiamo a che fare è questa poi chiaramente stiamo lavorando in modalità interattiva e vi faccio notare che sulla destra ci sono comunque tanti altri strumenti noi domani integreremo un piccolo video nella nostra presentazione ci sono dei bottoni andando avanti probabilmente a gennaio farò un piccolo webinar avanzato su InDesign per i cambiamenti di stato che cosa sono i cambiamenti di stato bottoni avanzati che trovate alle volte nelle applicazioni per esempio per ipad iphone eccetera che alle volte vengono sviluppati in certe porzioni comunque delle animazioni all'interno di InDesign cioè voi con InDesign potreste potenzialmente creare comunque un'applicazione certo non è che basta utilizzare un paio di pulsanti questo no però ci sono dei cambiamenti di stato cambiamenti nei livelli nel modo in cui questi livelli vengono visualizzati e che nascono proprio qui all'interno di InDesign però questa magari non è una cosa che vedremo domani domani vedremo solo i bottoni all'opera però è importante sapere che ci sono questo tipo di possibilità che esistono questo tipo di possibilità ok? allora qualche domanda prima di capretto la famiglia e non qualche domanda io avrei due domande che però non c'entrano con InDesign ok allora Laura ti chiedo solamente un attimino di no 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 tranquilla vai tanto ormai comunque sono nella fase out eh infatti Albe infatti allora qualche domanda sulla lezione e poi vi do spazio su InDesign no vabbè dai perché comunque ci sono un milione e mezzo di cose vi vorrei dire solo che sto veramente crollando poi non vi voglio tenere come ogni volta fino alle 11 non mi pare il caso qualche link per plugin sì poi sarà pubblicato nell'articolo che scriverò eh sì le animazioni ci sono su CS5 posto un file con il link degli script ok vai Albe grande Albe mi ho detto che Albe era un grande non è che lo dicevo per sport ah non mi diventare il rosso adesso ora ok fra l'altro Albe ha pubblicato anche dei nel forum di Artlandis se andate su artlandis.net c'è in alto il puzzantino forum ha pubblicato anche delle risorse legate a InDesign delle librerie che aveva raccolto quindi se ne avete voi andate lì vi ho messo il link divertitevi domande su InDesign sulla lezione? sì hai ragione ma io così l'ho conosciuto a lui e le risorse che comunque propone sono sempre non sono risorse ad minchiamo ma sono risorse belle e importanti ve l'avevo detto la prima volta che era tornato comunque qui all'interno dei webinar screen sharing has stopped ok grazie a te Chiara allora Laura volevi farmi qualche domanda nel frattempo io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirmi fino a qui anche se è morente e vi ringrazio insomma dell'attenzione di tutto insomma manco che cazzo sto a dire e niente vi aspetto insomma al solito commentate che insomma male non fa e direi a parte rispondere a Laura mi sto zitto perché giuro che è l'unico neurone che c'ho sta andando via via arrotolando a balle vai Laura hai ancora 5 minuti della mia attenzione dopodiché vado in un angolo a morire se sentite il verso dell'ognù sono io che sto morendo Francesco lo scoprirai tra poco Laura no Daniele vengono di pomeriggio ma col freddo che c'è a Roma ti assicuro che ci pensano 3-4 volte prima di stare a Pollaiati dove stavano prima ascolta Laura facciamo così visto che era una domanda esterna al webinar ti va di scrivermela magari con messaggio su facebook che ho veramente bisogno di andare un attimo di lasciar a farmi la faccia se no crollo ok va bene allora gente io vi ringrazio spero parlerai di esportazione sì anche se comunque non ci fermeremo nei dettagli più intimi della stampa digitale però ci passeremo davanti nel pannello per spiegare come impostare il file poi i metadati diversi formati ok e infatti lo accenneremo perché lì comunque fra l'altro è in materia comunque di Luca che è molto più bravo di me sulla stampa e insomma ne sa molto più di me però cercherò di darvi qualche input per preparare almeno il file per la stampa e dicevo niente dai vi auguro allora una buona serata no adesso guarda mangio qualcosa e mi riprendo vai tranquillo vi auguro una buona serata ci vediamo online insomma grazie a tutti a presto ciao ciao ciao